Come mi posso scordare di un ragazzo? Come sta andando a scuola? Serie tv preferita? Ciao raga, come state? Anche oggi non abbiamo un intro per questo canale però non ci pensiamo e ormai l'intro è diventata anche un po' questa comunque, comunque, comunque oggi farò il video in cui risponderò a delle domande mentre mi faccio una maschera con voi la maschera la devo ancora scegliere sono quelle lì che mi hanno regalato per Natale e non le ho ancora fatte nessuna quindi oggi ne farò una assieme a voi e nada raga le domande ce le ho qui sull'iPad le ho postate sull'iPad perché sto registrando col cellulare oggi perché mi andavo a registrare col cellulare e nada, quindi iniziamo subito mi vado un attimo a legare almeno i capelli in avanti mamma mia questa tenda che si muove anche no ok, a posto ora, ora, ora scegliamo la maschera io, allora, vediamo un attimo che fanno queste maschere perché, allora, questa è idratante e opacizzante questa qui che gusto è? che verde poi questa è per le occhiaie questa, cioè, non la voglio fare oggi perché ci sono giorni in cui le occhiaie non ne ho molte di più quindi oggi no questa che voglio fare con Giulia quindi, sinceramente, forse la scarto questa per oggi e la farò un altro giorno questa che serve idratante questa maschera potrebbe essere buona e questa idratante energizzante forse, forse, forse cioè, sono indecisa tra questa e questa non lo so, quale faccio sono tutte e due della Garnier come se vi interessa facciamo a meravacicicocco funziona sempre a meravacicicocco si mette sul coma che facevano un amore con la figlia del dottore il dottore si ammalo a meravacicocco con questo però mi rispia vabbè è uscita questa ok, quindi andiamo ad affari queste vanno in posa per 15 minuti quindi posso rispondere benissimamente a tutto quello che volete andiamola ad aprire senza magari ucciderci oh mamma penso ci sia un po' troppo siero come si chiama all'interno ha odore di tipo salviette mamma mia raga però a me queste maschere ce ne piacciono ma a questo tempo mi danno fastidio perché sono tutte ragazzi dovevo prendere un toglievo perché mi sporco tutta guardate qua però le maschere in tessuto piacciono e non piacciono un amore d'odio aiuto sono impedita io chiediamo anche un po' questa cosa perché si chiudere ok 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 forse ce l'abbiamo fatta forse ce l'abbiamo fatta voglio paura di averla distrutta e pronti partenza vi aspirerò anche un po' di sopra via oh no ma faccio paura mamma mia che è qua ho congelato fa freddo aiuto penso che a breve morirò non so anche sulle sopracciglia top che qua non ci vedo ecco qua mamma mia sembra un mostro mamma mia però queste mani carola fiorentino 08 il tuo cellulare il tuo telefono è organizzato come il nuovo aggiornamento ios o nel modo vecchio allora raga io tipo quando usci subito appena avvi c'è l'aggiornamento provai a fare questa cosa perché comunque vedevo addio sai come è bello avere il cellulare detto così è scomodissima infatti appena l'ho fatto poi l'ho levato tutti postavano mia cugina ha detto marga ma tu non stai bene perché hai perso veramente raga perso un sacco di tempo perché mi organizzai veramente troppe cose e poi lo levai subito perché era troppo scomodo e poi una volta levato non sapevo più come sistemarmi perché io avevo tutte le app ben disposte e poi mi ero scordata come ce le avevo prima e quindi sono tutta scomoda comunque un casino ci ho voluto un sacco di tempo per riabituarmi però ho l'aggiornamento vecchio cioè ho fatto l'assistema di nuovo come l'aggiornamento vecchio cosa che consiglio un po' a tutti perché raga cioè non si può è vero c'è troppo scomodo poi fatemi sapere se voi se avete l'iPhone avete fatto l'aggiornamento nuovo cioè l'aggiornamento penso a tutti però se avete sistemato il cellulare con l'aggiornamento nuovo e se vi trovate soprattutto perché io no quindi tutto l'ho levato allora poi vediamo vediamo mi ha fatto il stavo foto due volte aspettate trattino un passo Valentina Vita hai mai preso l'insufficienza a scuola? sì qualche volta le medie in francese soprattutto poi non mi ricordo poi deve mettere questa non lo so no penso di no questa ma questa no è un'insufficienza per ora ricorda? perché però no per ora niente insufficienza però sì ho preso qualche insufficienza in francese che vi ho detto io ero una frana in prima media in francese e basta perché sì insufficienza no massimo massimo quando andavo male sei per dire però però no dai allora Margie Giulia appunto kawaii qual è il tuo lavoro dei sogni? allora io ho un bel po' di lavori nel cassetto insomma allora praticamente io vorrei fare tante cose mi piacerebbe molto fare l'attrice mi piacerebbe molto aiuto restare comunque nel mondo dei social non lo so comunque è diventare una persona importante mi piacerebbe diventare un'imprenditrice non so perché ma ho questo sogno e quindi ho un po' di sogni tutti alla fine un po' incastrati tra di loro cioè hanno tutti un senso dopo l'altro quindi c'è tipo cioè come spiegare tipo vuoi fare l'imprenditrice però sempre collegata comunque a tutti altri lavori che voglio fare sui social cose di questo genere quindi quindi sì questi sono tutti i miei lavori dei sogni però principalmente anche restare nel mondo dei social ma secondo me l'ho messa tipo aspettate un attimo come cavolo l'ho messa sta cosa ecco qua così almeno mi copri il naso baby eh scusami era meglio prima aiuto ok poi fai fai ok allora poi prossima domanda prossima domanda Ellie trattino basso ereni un regalo brutto che ti hanno fatto per qualche festività ma raga diciamo che i regali brutti ogni anno un po' di solito si hanno soprattutto dai cioè non dico dai tuoi genitori però da parenti così qualche volta è tipo mi viene in mente raga sinceramente oh non lo so lo sapete è qualcosa tipo cioè tipo orecchini enormi oppure cose che tipo tu non puoi proprio una volta raga cioè allora le uso tutte e due però tipo l'anno scorso mi regalano due maglie con l'altro dello stesso colore però vabbè sono un bello uguale perché le uso tutte e due per carità però c'è vedere le coincidenze cioè fantastico direi cioè di un altro colore sarebbe stato meglio però è contento insomma poi già di trattino basso rich come hai iniziato il tuo 2021 diciamo che oddio raga ma io non ho contato ah sì vabbè stanno il mio 2021 cioè molto easy per ora non niente di particolare cioè fatemi pensare non credo di no è stato nonostante comunque il covid un bel capodanno perché l'ho passata comunque con mamma babbo e giulia e cioè non è stata bene tutto a posto ci siamo divertiti abbiamo andato tantissimo quindi è stato un bel capodanno e poi tutto bene nel nuovo anno insomma però niente ancora di troppo dire oddio fantastico vorrei dire però ok allora natali natalibo mua punto pel vorrei sapere cosa provi facendo lezioni in data a differenza della presenza allora raga io ho un parere tutto mio su questa didattica a distanza sto vedendo ragazzi che stanno protestando cioè tipo nei telegiornali ragazzi che vanno fuori scuola no noi vogliamo tornare a scuola allora ragazzi allora io non è che non voglio tornare a scuola attenzione però ora come ora io non voglio allora io in questo momento a scuola ho paura di tornare non è che non voglio tornare ho paura di tornare quindi se questi ragazzi che hanno anche 16 anni 17 anni 18 anni per me sono proprio come dire sono incoscienti perché ok tutto quello che volete voglio tornare in presenza oddio in presenza tutto quanto pure io voglio tornare in presenza perché è normale fare un discorso così con questa maschera in faccia non è tanto normale però vabbè comunque cioè anche io voglio tornare in presenza però ora come ora i contagi salgono questo vaccino boh c'è chi se lo fa chi non se lo fa io non voglio dire nessun parere su questo vaccino perché sono argomenti un bel po' delicati quindi evitiamo però cioè il vaccino chissà se funziona davvero diciamo che è un periodo in cui a scuola noi non possiamo tornare perché diciamocela tutta allora io a scuola assisto con la mascherina no? però magari arriva un buffone all'improvviso una buffona così che non crede al covid non se ne frega del covid vicino a me senza mascherina io dico mettiti la mascherina questa se la mette poi va vicino a un altro senza mascherina quest'altro magari non vuole dirgli mettiti la mascherina e magari quella di nel covid che fai prendi il covid perché i ragazzi ci stanno questi ragazzi e poi cioè alla fine abbiamo tutti cioè per andare a scuola siamo tutti abbastanza piccoli no? quindi cioè non si andiamo a scuola siamo massimo 18 anni poi dall'università in poi è un'altra cosa però cioè non non è il caso di tornare in questo momento a scuola proprio per niente cioè zero spaccato quindi secondo me per ora è meglio rimanere in didattica a distanza anche perché per me non cambia molto cambia magari il contatto con i professori quando tu devi fare un'interrogazione però alla fine io studio ugualmente cioè non è che dire vabbè io sono in didattica a distanza ma studio proprio anzi cioè magari no nemmeno perché l'anno scorso comunque avevo l'esame quindi dovevo studiare però era una cosa un po' più superficiale tipo mi ricordo una volta cioè allora io mi ricordo di non aver mai fatto assenze in didattica a distanza in quarantena la prima didattica a distanza alle medie però una volta tipo dormi tardi la notte mi appoggiai un po' sul divano perché avevo un po' di tempo di spacco e praticamente mi svegliai che l'ora della lezione era finita e quindi una volta diciamo saltai però era una cosa un po' più superficiale mentre ora sono molto attenta a rispettare tutti gli orari tutte le cose perché comunque diciamo che è come se fosse la scuola ti mettono in ritardi se entri dieci minuti dopo ti mettono ti mettono in assenza se entri dieci minuti dopo ti mettono in ritardi se esci dieci minuti prima o mezz'ora prima o un'ora prima ti mettono in permesso quindi diciamo sono tutte cose che si fanno anche in presenza insomma quindi alla fine è la stessa cosa poi a studiare studiare ugualmente infatti le interrogazioni le prime interrogazioni le ho prese tutte cioè in classe mia tutti abbiamo preso le prime interrogazioni ora stiamo facendo le seconde interrogazioni abbiamo fatto vari compiti ma ora dobbiamo fare altri compiti ancora quindi cioè alla fine è come se fossimo in presenza poi è ovvio non c'è il contatto ma ora come ora il contatto comunque non ci può stare quindi è meglio che non torniamo secondo me quindi se volete sapere cosa penso io a riguardo di tutti quei ragazzi che stanno facendo la protesta praticamente c'è stata anche una protesta contro la dad lunedì se non sbaglio la mia scuola non la mia classe non ha aderito dove praticamente no non dobbiamo tornare dobbiamo tornare a scuola tutte queste cose qua allora per me questa protesta era inutile perché non capite che la gravità è la cosa e quindi mi dispiace infatti vostri però io sinceramente ho paura di tornare a scuola fine della storia comunque raga sono passati 15 minuti oh mamma che liberazione però ok oh mamma vabbè andiamola a riporre qua dentro che poi la butto perché ora non ho un cestino qua vicino a me oddio raga ma c'è un sacco di cosa dentro allora andiamo a massaggiare un po' anche se ne è troppissima cioè sembra boba mamma mia ok quindi per me questa didattica a distanza in questo momento serve e poi quando il covid passerà tutte queste cose passeranno possiamo tornare benissimamente in presenza perché mi piace stare in presenza mi diverto sto bene cioè alla fine ti hai il contatto con i professori il contatto con i tuoi amici stai cioè alla fine è diversa la presenza però ora come ora tornare in presenza sarebbe inutile pensate io sono andata dal primo superiore quindi non conoscevo nessuno e noi abbiamo fatto amicizia grazie alla didattica a distanza perché se stavano in presenza non ci potevamo muovere dai banchi o cose di questo genere quindi diciamo che maggiormente l'amicizia l'abbiamo fatta su whatsapp poi è vero prima di ritornare in didattica a distanza a distanza feci amicizia con delle ragazze con cui poi abbiamo stretto i rapporti in didattica a distanza perché in effetti ragazzi siamo stati solo in didattica a distanza cioè ad ottobre ci hanno messo in didattica a distanza quindi per dirvi però appunto ora nella didattica a distanza è il momento cioè è l'unica cosa che possiamo fare ragazzi quindi io penso così poi non lo so comunque ho risposto a tre domande vorrei dire però perché mi sono persa a parlare per questa cosa aspettate vediamo che mi trovo un'altra allora dolce matilde e oletta 7 dolce o salato cioè dipende dai periodi cioè da quello di cui ho voglia durante la giornata perché ci sono alcuni giorni di cui tipo di queste cose di dolce non ho proprio voglia altri giorni di salato non ho proprio voglia quindi dipende un po' non ho preferito poi serie tv preferita raga lo sapete ho iniziato Riverdale cioè ho iniziato mi manca la quarta stagione perché ho visto allora io ho visto la prima e la seconda stagione tipo in estate penso boh non mi ricordo e poi praticamente iniziai a vedere la terza stagione in queste ferie natalizie l'ho finita poi stavo iniziando la scuola poi praticamente mi era diventato un po' pesante anche se mi piace mi accanisce però diciamo che pensavo solo a Riverdale quindi non volevo uscire pazza un attimino quindi ho stoppato e vorrei riniziarlo e penso che per ora Riverdale perché dipende troppo c'era che pensate che Riverdale non era la mia c'era proprietà anzi pensavo che fosse super pesante invece no è bella le prime puntate no raga la terza stagione proprio mamma mia ti prende un sacco però fa un po' paura devo essere sincero allora come angi.x.x trattino basso 31 come ti trovi a diceva mi trovo bene è ovvio i compiti ci sono però pensavo peggio poi diciamo che siamo al primo anno siamo ai primi mesi siamo in didattica a distanza non so se i professori si stanno bilanciando nei compiti non lo so sinceramente però ora come ora mi trovo abbastanza bene poi come sta andando Francesca Foglia trattino basso trattino basso un bacio ma come sta andando a scuola le amicizie tutto bene a scuola sta andando tutto bene fatemi pensare se ho preso qualche interrogazione nell'ultimo no penso di no cioè le prime ah si ho preso l'interrogazione in inglese però come seconda interrogazione niente oltre a inglese le amicizie tutto bene tutto bene quindi si dai non ci possiamo lamentare quest'anno pensavo peggio invece no cioè quest'anno ragazzi vi giuro io allora io proprio ho il timore di iniziare le cose tipo la scuola sola perché non l'ho mai iniziata invece diciamo che quest'anno è andata bene poi 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 dai rispondiamo all'ultima domanda perché il video sta diventando lunghissimo non vedo le due non lo so perché allora Anna Mart trattino basso 07 vi piace Harry Potter mi hai letto i libri e mi hai visto di tutti i film allora tutti i film non li vidi in quarantena mi piace Harry Potter però i libri non li ho letti poi trattino basso è trattino basso R trattino basso I trattino basso K trattino basso A trattino basso 0 trattino basso 5 come mi posso scordare di un ragazzo non lo so non lo so perché non sono questioni cioè non ho mai affrontato queste questioni quindi non ti so dire però mi raccomando non fare tipo che cioè tipo la sottona non vi permettete perché no non si può fare è quel che dico H24 alle mie amiche però capito mi raccomando l'unica cosa che non devi fare poi fai come vuoi cioè vai agisci come vuoi tu però non fare la sottona che poi raga la sottona cioè questa parola sottona è che mi piace molto però non so come spiegarvi ora vabbè avete capito e nada quindi questo è tutto raga il video è diventato lunghissimo però facciamo che taglierò qualche pezzo e niente io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video vi ricordo di iscrivervi a instagram marghejulia kawaii 3-o basso offgel su facebook marghejulia kawaii sul secondo canale marghejulia secondo canale sul mio canale sul canale principale marghejulia kawaii e su questo canale marghele 3 vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao